il leader di forza italia e passaggi alla lega non capisco la ritorsione dal carroccio un segnale dopo il rinvio sulla federazione di centrodestra berlusconi è un mondo che si è sempre mosso in un'orbita diversa da quella di salvini malgrado siano alleati l'unico momento in cui gli astri potranno forse allinearsi sarà la quarta votazione per la presidenza della repubblica bisogna allora calcolare le traiettorie dei due partner per capire cosa li tiene insieme il cavaliere sogna il colle il leader della lega mira la federazione del centrodestra per entrare dalla porta principale a palazzo chigi per tentare di realizzare i loro disegni sono consci di aver bisogno l'uno dei voti dell'altro ma in questi casi bisogna fidarsi e se da una parte gli amici di una vita temono che silvio si sta facendo prendere per il ci dall'altra anche il capo del carroccio sospetta la stessa cosa mi sono sentito preso in giro così è iniziata la campagna acquisti di salvini in forza italia una manovra che ha irritato berlusconi non capisco la ritorsione la ritorsione è riferita all'ennesima falsa partenza della federazione per la quale era stata programmata una riunione ai primi di settembre alla presenza dei vertici dei due partiti e dei loro ministri all'ultimo momento si è proposto di spostare l'evento dopo le amministrative con la scusa di evitare che sul progetto gravasse il risultato del voto su cui per usare un eufemismo non si fa grande affidamento insomma sarebbe stato un errore battezzare la federazione con una sconfitta berlusconi ha secondato le ragioni del rinvio anche per non irritare la meloni dei cui voti ha bisogno se davvero vuole partecipare alla corsa per il colle a quel punto salvini ha sentito puzza di bruciato e viste le defezioni subite al gruppo parlamentare europeo ha aperto le porte della lega quanti già bussavano per entrarci i nuovi arrivi in lombardia sono un segnale al cavaliere più che spostare voti infatti spostano gli equilibri nella selezione dei grandi elettori regionali per la presidenza della repubblica